Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Samira e oggi sono qui per fare un video molto speciale. Scusate dalla voce, ma ho solamente mal di gola e sinceramente io sto un po' maluccio. Comunque adesso sto un po' meglio perché... sì. Oggi voglio raccontarvi il mio sesto giorno di liceo, è stato bellissimo perché abbiamo fatto matematica, poi la prima ora non è stata un inferno, però la seconda e terza sono state bellissime perché ho fatto inglese e religione alla terza ora, che è l'ultima. Comunque a me piace molto religione, anche perché sono una credente e Dio mi proteggerà dai malvagi tentazioni delle persone. Insomma oggi sì, ho una voce un po' strana anche perché ho un po' di raffreddore, ma dettagli aspettate, speriamo che regga... Oddio basta che... però basta che lo teniamo così. Comunque ragazzi, oggi veramente sono molto più contenta rispetto al solito, però sentirete un po' la mia voce diversa perché appunto ho un mal di gola e sto male. Nel senso che ho un mal di testa e una cosa molto strana è che mi viene subito mal di gola quando... Quando tipo avviene anche autunno, si vede che sta anche avvicinando l'inverno da me, quindi... E' così che si avvicina il momento cruciale, no? Per dire, però... Penso che... Anche questo li supereremo, dai. Però comunque la scuola mi trovo bene, scusatemi... A scuola mi trovo molto bene... Ve lo assicuro, io non ho pianto, però... Ve lo assicuro, no no... Io sto bene... Comunque ho un po' di mal di testa e un po' di... Come avevo già detto, però comunque sto cercando comunque di andare avanti, nel senso che anche quando... Non ho più scuola media così, però sto cercando comunque di andare avanti, la mia amica c'è sempre stata. Comunque grazie a lei ho superato anche... La paura di essere criticata... Grazie a lei mi ha fatto imparare un sacco di cose, nel senso... Mi ha fatto imparare a fregarmi di cose che dicono gli altri... Comunque per chi è agitato al liceo, ma comunque deve stare tranquilla perché... O barra tranquillo... Perché... Qualcosa vi posso consigliare, insomma... E poi una cosa agli haters... Io non sono più una bambina ragazza... Sono una ragazza... Cresciuta in buona famiglia... Perché... La mia famiglia è adatta per dare buona educazione... Soprattutto mia mamma... Che mi vuole tantissimo bene... E ci tiene... Che io sia andata al primo liceo... E nulla ragazzi... Oggi... Lo so che il video è durato poco... Ma comunque non ho niente di particolare da raccontare... Comunque spero che questo video vi sia piaciuto... Se è così per favore mettete like... Oddio... Mettete like e iscrivete al canale... Cliccate e attivate la campanellina... Per essere sempre aggiornati nei miei prossimi video... E noi ci vediamo nel prossimo video... E io... Vi mando... Un grossissimo bacio... E noi ci vediamo nel prossimo video... Ciao!